Grazie a tutti. Buonasera. 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 dietro il trappello che vede ragazzi e ragazze sordienti con il campione regionale Umbro Somole Brunelli da Nestor che è stata già una bella selezione questa prima tornata vediamo con grande sicurezza Riccardo Lorello della Foscopi Sicarensiano davanti a tutti qui dietro vediamo Tommaso Catarsi della sportiva Aquila ostacolo adesso viene saltato in agilità è il momento di Fabio Delmetico Fabio Delmetico a poca distanza Somole Brunelli poi le maglie della ruota libera di terra Giulio Morelli dai si arriva quell'avanti dietro l'arrivo dai scollala scollala passa Veli Veli la larga eccolo qua al passaggio sul retroguardo l'azione decisa potente di Samuele Scappini che è un'idea di terra che è una nuova la mia Dai Matteo Occhio eh Di Gabriele Riva È arrivata libera ai terni Poi il momento di Matteo Spanio Lo portate a Borgoluovo Occhio 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 I've never been the best Occhio 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 Anemangoooo Adesso con Alice Verri per le ragazze. 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 Adesso con Alice Verri per le ragazze.